La telecamera Lumens VC B20 UA si integra facilmente con i vari software di videoconferenza ed è compatibile con qualsiasi sistema operativo che supporti la connessione USB 3.0. Ecco un tipico impiego della telecamera in una conferenza a due interlocutori, utilizzando inoltre lo Speak 410. Qui vediamo invece una videoconferenza tripartita, avente un host e due partecipanti collegati da differenti supporti.